Volevo utilizzare questo video per fare i miei più sinceri complimenti ad entrambe le formazioni per come hanno affrontato il campionato, ognuna con degli obiettivi diversi ma con dei risultati veramente pazzeschi. Ciao bella a tutti da me ragazzi Spal Napoli attualmente sul punteggio di 1 a 2 siamo al 91esimo quindi mancano ancora 3 minuti perché ne hanno assegnati 4 di recupero ma ragazzi questa Spal veramente quest'anno sta sorprendendo e non poco. Primo tra tutti un Petagna attenzione perché ragazzi ci è mancato poco a momenti agguantano il pareggio stavo dicendo veramente una gran bella stagione da parte di Petagna ma in generale di tutta la Spal l'anno scorso se non ricordo male sto andando a memoria mi pare 38 partite giocate 38 punti arrivarono quarti ultimi e mi sto riferendo alla Spal si salvarono perché il Crotone terzo ultimo arrivò a 35. in questa stagione ragazzi secondo anno di fila in Serie A veramente un campionato di un livello leggermente diverso attenzione perché ancora ci provano floccari no se la sorpresa sarà di loro diciamoci la verità oggi una vittoria a Napoli o una vittoria alla spalla cambia veramente ben poco anche se ragazzi eventualmente non so se sono già salvi matematicamente ma non credo 35 no no mamma mia a momenti lo fanno ma veramente una partita incredibile comunque nel primo tempo sicuramente Napoli che ha fatto meglio se sono magnati l'impossibile nel secondo tempo poi Allan gran bel gol un tiro a giro sotto l'incrocio dei pali su cui il portiere della Spal Viviano non può assolutamente nulla ma poi appunto ragazzi la Spal ha iniziato a premere ha iniziato a spingere ci ha creduto hanno annullato un gol in fuorigioco a floccari floccari che un paio di colpi di testa ben parati da parte di meret meret che fa una cazzata petagna che tira se non mi ricordo male era lui ha preso un colpo in testa floccari insomma tante tante occasioni da rete poi alla fine arriva il calcio di rigore secondo me netto per la Spal arriva il gol del pareggio ma poi ragazzi Mario Rui si è fatto trovare veramente prontissimo ha tirato una bella sassata su cui Viviano non ha potuto nulla questa volta quindi uno a due per il Napoli spendo anche due parole per il campionato del Napoli perché comunque ragazzi 76 punti non è poca roba ovviamente non è il risultato che hanno ottenuto con Sarri la scorsa stagione ma secondo me ragazzi potenzialmente parlando Ancelotti per le prossime stagioni sicuramente potrebbe anche fare meglio magari con qualche acquisto un po' più mirato anche se l'organico dei partenopei è veramente tosto comunque sempre saldi al secondo posto in classifica e non è che 91 punti o 76 fanno la differenza la posizione è quella che è quindi onore veramente anche al Napoli per questa ennesima vittoria ma soprattutto per il campionato che hanno fatto l'unica squadra che ha provato a tenere testa una Juventus veramente quest'anno di un altro pianeta a prescindere da Cristiano Ronaldo mi permetto di dire perché anche senza Cristiano Ronaldo probabilmente la Juventus avrebbe fatto un campionato a parte Ronaldo lo hanno preso per una situazione un po' più europea poi sappiamo tutti come è andata a finire ma nel frattempo la partita è finita e lo ripeto ragazzi la Spal avrà pur perso ma io mi sento in dovere di fargli un applauso di quelli assurdi stesso discorso per il Sassuolo ma il Sassuolo secondo me ha qualcosa in più potenzialmente tecnicamente parlando ma la Spal undicesima in classifica con 42 punti ragazzi miei è veramente un risultato pazzesco mi piace commentate condividete iscrivetevi al mio canale prepariamo se alle smadonne perché mo c'è sta questa e quindi stasera post partita ovviamente di Roma Juventus qui su YouTube domani la live reaction che ovviamente registrerò questa sera stessa ciao